Per un programma specifico di riduzione adipe, dall'Atlante selezioniamo la zona desiderata, ad esempio fianchi e addome, e selezioniamo il programma riduzione adipe. Qui compaiono i parametri, la descrizione e le immagini che ci guidano nello svolgimento del trattamento. Per ogni zona si tratta di un programma con due fasi, la prima in modalità capacitiva, per attivare i tessuti superficiali, e la seconda in modalità resistiva, per raggiungere gli strati adiposi profondi poco vascolarizzati. La pelle deve essere pulita e detersa, senza residui oleosi o di altre creme che potrebbero ostacolare il trasferimento energetico. Iniziamo stendendo un velo di crema conduttiva sulla piastra, che andremo poi a posizionare sotto l'addome. Prepariamo l'addome con crema conduttiva linfodrenante, a base di escina, fucus e caffeina, e iniziamo il trattamento usando il manipolo capacitivo. Grazie a Tecar Beauty abbiamo l'innalzamento della temperatura nelle zone fredde che caratterizzano le adiposità localizzate, ottenendo così un'importante vasodilatazione e un'accelerazione del metabolismo locale, favorendo la lipolisi. L'indicazione è di massaggiare l'addome in senso orario, utilizzando un'intensità medio alta. La sensazione percepita sarà un piacevole e rilassante riscaldamento profondo. La temperatura superficiale non deve superare i 42 gradi Celsius. Il trattamento dura complessivamente 30 minuti a zona, 15 minuti per ogni fase. La frequenza delle sedute dipende dalla condizione rilevata al momento della prima valutazione. Per dare una tempistica generica possiamo dire che due o tre sedute settimanali consentono di raggiungere risultati ottimali e costanti nel tempo.